Questo allora che serve? Prende l'acqua, un deposito, arriva l'acqua e poi per caduta la faccenda. Tutto in Italia funziona così, gli ultimi più moderni sono i funghi, fanno i funghi oppure fanno il ponte. Non è sposta al nord, perché al nord c'è una montagna, tramontare il vino, dopo l'alba. La pietà perciosa, siamo maggiori, non è questa pannola. Senti, dopo San Mauro che stanno? Il lancio l'hai già fatto. Grazie. Grazie. Grazie.